Onorevole, si dice che in politica 2 più 2 non fa 4, questa regola è ancora attuale? Qui c'è un problema che riguarda anche l'operazione matematica, perché ci troviamo di fronte a una squadra che è stata talmente scarsa nell'impostare un'elementare e banale operazione matematica. Si aprirà, secondo me, una stagione interessante. Noi in questi giorni non abbiamo fatto altro che lavorare affinché certi passaggi si consumassero in modo irreversibile. Noi non abbiamo consentito a nessuno di alzare il prezzo sulla nostra posizione ed è ovvio che abbiamo anche fatto sapere qualche minuto fa che noi oggi comunque siamo intenzionati a completare la formazione degli organi d'aula perché non consentiremo che ci sia la classica notte della bassa cucina, dei lunghi coltelli come non l'abbiamo consentito per l'elezione del Presidente del Parlamento siciliano. Onorevole, questa frattura all'interno di Forza Italia metterà realmente in crisi la maggioranza? Dipende cosa c'è in pentola. È ovvio che in questo momento siamo di fronte a quello che comunque ancora è un tentativo di alzare il prezzo su quelle che sono posizioni ed ecco anche la nostra presa di posizione su quelle che devono essere situazioni che vanno chiuse immediatamente, dopodiché se il Presidente Miciche voleva realmente dare un segno chiaro di discontinuità rispetto a un quadro che ha composto e che lo ha tradito è fuori tempo massimo. Io gliel'ho detto già la settimana scorsa e ho anche detto che ancora era in tempo a proporsi come candidato alla Presidenza del Parlamento siciliano noi l'avremmo sostenuto, non l'avremmo seguito in quello che poi lui ha fatto cioè una trattativa personale e soprattutto finalizzata a garantire delle posizioni ai suoi uomini di fiducia. Con queste cose noi non siamo interessati. Grande delusione perché per 48 ore mi stavo innamorando di Schifani perché finalmente un Presidente che dica no a quelle che sono le impostazioni e le imposizioni romanocentriche. L'illusione è durata poche ore, abbiamo anche sentito la seconda minaccia di dimissioni le segneremo tutte ovviamente nel block notice come è capitato già con Musumeci e naturalmente una giunta al ribasso che rispetto a quella che stiamo parando noi con il nostro governo di liberazione avrà veramente filo da torcere perché noi stiamo completando la nostra giunta e naturalmente la stiamo facendo anche in relazione a quelle che non sono solo le competenze specifiche ovviamente non basate sull'essere moglie di qualcuno e neanche l'acche di qualche altro basato invece su quello che è realmente un ragionamento di competenze e soprattutto di professionalità che vogliamo mettere a disposizione prima di tutto nei confronti del Presidente Schifani che ne ha bisogno perché da questo punto di vista mi fa un po' tenerezza si ritrova con una buona parte della giunta che è frutto della bassa cucina della precedente gestione Musumeci e un po' di quella che è l'eredità dello zio Bonanima che in parte è stata anche imposta sempre dall'ex ministro per il sud Musumeci 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 Grazie a tutti.